amici del baso di pandora benvenuti siamo a sabato dal nostro appuntamento ormai istituzionale con gabriele sannino ciao gabriele ciao carlo ciao a tutti voi allora ci sono voci anzi informazioni di cambio diciamo di di aria negli stati uniti in pratica si stanno muovendo delle cose i nostri ascoltatori voi avete avuto probabilmente mi auguro l'occasione di vedere l'intervista di mercoledì con roberto mazzoni un'intervista molto articolata direi anche molto completa e in qualche modo oggi possiamo sentire il ed avere anche eventuali conferme da parte proprio di gabriele la puntata è proprio dedicata alle ai ai movimenti che ci sono negli stati uniti che normalmente sono destinati sempre ad anticipare quello che poi avviene in europa e quindi a casa a casa nostra senti gabriele gabriele parliamo subito di anthony fauci che è l'uomo simbolo della della pandemia in america lo confermava appunto lo stesso roberto mazzoni mercoledì in collegamento dalla florida sembra sembra in netto calo di consensi qual è la tua disamina gabriele su anthony fauci si allora anthony fauci in caduta libera perché il deep state scusate è in caduta libera negli stati uniti il punto caro è questo che fauci è il capo della task force mondiale sulla pandemia e il coordinatore per il deep state globale sulla pandemia noi tra l'altro è un uomo molto importante del deep state perché assiste presidenti da dagli anni ottanta da da reagan in avanti insomma quindi che cosa sta succedendo sta succedendo che sta venendo fuori che fauci in qualche modo è collegato a one che ha ingegnerizzato lui il virus in qualche modo che c'è che ha dato un contributo molto importante e già il giornale the intercept che è un giornale creato dalla dal fondatore di ebay già nel settembre del 2021 parlava di eco health ally alliance che in pratica un'organizzazione sanitaria negli stati uniti che aveva utilizzato denaro federale per finanziare coronavirus a one e questa eco health alliance scusate aveva ricevuto in qualche modo due proposte di sovvenzione di cui una da parte del niad il niad è il national institute of allergy and infectious disease il cui capo è proprio fauci dal 1984 quindi fauci aveva in pratica attraverso il niad finanziato eco health alliance per finanziare a sua volta coronavirus a one e tra l'altro questa eco health alliance è stata l'interfaccia per fauci perché ha ricevuto circa 3 3 virgola 1 milioni di dollari di cui 600 mila direttamente collegabili a one e che cosa sta emergendo adesso sta emergendo che in pratica anthony fauci che ricordiamo anche il chief medical advisor della casa bianca ha nascosto queste informazioni al congresso cioè ha nascosto tutto questo al congresso ha mentito diverse volte al congresso e tra l'altro è accusato sia lui sia francis collins che il direttore del national institute of health ovvero l'istituto nazionale della salute un dipartimento della salute governativo molto importante per la gestione della pandemia sono trappelate mail in cui due si scrivono dicendo che bisogna fermare quello che sta per uscire quello che sta uscendo e addirittura la darpa e questo molto importante documenti militari della darpa esposti da project veritas hanno dimostrato che la darpa aveva detto no a ingegnerizzare con una virus in quel laboratorio gestito da insomma da diverse organizzazioni poco chiare ecco dove si facevano già esperimenti poco chiari mentre invece il niad di fauci aveva detto sì attraverso eco health alliance quindi anche project veritas ha praticamente dimostrato quello che già era uscito qualche mese qualche mese prima fauci si difende dicendo che il guadagno di funzione del virus non è abbastanza per parlare di ingegnerizzazione cos'è il guadagno di funzione in virologia in pratica si parla di si parla di guadagno di funzione modifiche genetiche al virus quindi lui dice che in pratica con una virus studiati lì non erano roba ingegnerizzata ma erano roba normale tra virgolette e inoltre in questi documenti trappelati da project veritas è venuto fuori non soltanto che conoscevano in qualche modo il virus che avevano ingegnerizzato ma anche conoscevano anche le cure ovvero l'idrossiclorochina e sapevano già che il vaccino non avrebbe risolto niente che anzi sarebbe stato più pericoloso del virus ingegnerizzato quindi questo distrugge in qualche modo tutta la credibilità di Anthony Fauci che quindi in qualche modo ecco perché in caduta libera e Fauci che recentemente tra l'altro ha ricevuto anche una laurea honoris causa la sapienza di Roma pensate ecco per il suo contributo nello studio delle malattie infettive e immunomediate Fauci ricordiamoci che è andato insieme a Bill Gates in tutto il mainstream americano per per mesi insomma durante il 2020 anche il 2021 per mesi a parlare del fatto che bisognava fare prima il lockdown inoltre dopo che bisognava comprare il vaccino perché Trump insomma era remittente bisognava comprare i vaccini bisognava vaccinare come se non ci fosse un domani quindi uno che ha creato il virus e che ti dice poi dopo vaccinatevi dovete fare il lockdown eccetera cioè capiamo che insomma il piano è veramente insomma dimostrato al mondo no in qualche modo tra l'altro questa è una cosa politica anche Carlo perché Anthony Fauci sulla rivista professionale Helio pochi sanno scrisse che Trump avrebbe affrontato una malattia infettiva a sorpresa e siccome Fauci è un elemento del deep state Fauci è anche uno sfegatato e appassionato sostenitore di Hillary Clinton di Hillary Clinton esistono mail del 2013 dove Fauci adorava addirittura Hillary Clinton teniamo presente che i capi del deep state sono un po' le dinastie dei dem americani ovvero gli Obama i Clinton sono loro all'apice del deep state non dell'elite quindi quello che viene fuori anche è che Fauci l'ha fatto anche per motivi politici perché altrimenti non si spiega come avrebbe scritto quelle parole su quella rivista professionale medica e un'altra cosa molto importante è dire che i dem americani in particolare i Clinton, gli Obama eccetera sono al centro un po' di tutti gli scandali che ci sono al momento negli Stati Uniti e che stanno facendo crollare il deep state dal caso Fauci al caso Epstein al caso Pizzagate perché ricordiamoci che il Pizzagate è venuto fuori grazie a Wikileaks nel 2016 che ha parlato proprio delle mail della Clinton e del suo segretario John Podesta che parlavano ossessivamente di gusti di pizza e sembrava un linguaggio in codice siccome Pizzagate non è stata dimostrata la falsità fino adesso rimane comunque una cosa vera perché nessuno è riuscito in pratica a sbugiardare e a mettere nero su bianco che lo scandalo Pizzagate è falso conoscendo poi quali sono i vizi di questa elite quindi che cosa sta accadendo? che con tutti questi processi il deep state sta crollando completamente quindi anche i personaggi del deep state cominciano veramente a crollare Fauci è sicuramente uno di questi se cade Fauci tutti i nostri virologi saranno veramente nel panico a mio avviso quasi in un gioco come nel domino in pratica ecco tra l'altro sta ritornando in auge proprio visto che l'hai evocata poco fa Hillary Clinton come possibile candidata nuovamente all'elezione del 2024 si vocifera anche di Michelle Obama giusto per nel solco della moglie nella narrazione di un ex presidente moglie di un ex presidente come nel caso della Clinton staremo a vedere se pensi che il lavoro che il vaso di Pandora sta facendo da tre anni a questa parte sia importante e utile per la tua informazione e meritiamo il tuo aiuto allora aiutaci, sottienici con una tua donazione il nostro canale è demonetizzato e questo per noi è chiaramente un problema perché i proventi della pubblicità erano fondamentali per noi adesso l'esistenza e l'evoluzione del vaso di Pandora dipendono esclusivamente da te trovi qui sotto in descrizione il link per la tua donazione Gabriele, allora nel quadro complessivo di questa situazione c'è un tassello molto molto importante un passaggio molto importante la Corte Suprema Americana ha bloccato l'obbligo vaccinale sì Carlo, negli Stati Uniti l'obbligo vaccinale è caduto al momento a parte il Turkmenistan, il Tajikistan, la Micronesia, l'Indonesia e l'Italia non c'è un obbligo vaccinale, l'Austria è invilico ma siccome siccome insomma il Deep State e l'elite stanno perdendo la terza guerra mondiale forse l'hanno già persa, non faranno niente, probabilmente non faranno niente ad ogni modo i media italiani l'hanno detto veramente è un passato diciamo così, insomma sono stati veramente molto generici su una notizia così importante ma i nostri media sono veramente vergognosi Carlo basti pensare che tutte le fake news di Mario Draghi fake news medico-scientifiche tipo se non ti vaccini muori insomma non le criticano neanche quindi questo per farci capire insomma i media a che punto sono arrivate pensa che l'altro giorno ho sentito sentivo un po' gli idioti in televisione Carlo e qualcuno addirittura ha detto cioè sembra quasi che per i virologi di questo paese appena prendi il Covid vai in terapia intensiva quindi devi fare il vaccino per evitare una terapia intensiva di un virus che ha un tasso di sopravvivenza del 99,98% comunque beh insomma questa è una piccola digressione per capire a che punto siamo arrivati con l'informazione ad ogni modo la Corte Suprema dicevamo ha rigettato l'ordine di Biden di far vaccinare obbligatoriamente i dipendenti delle grandi aziende ovvero le aziende che hanno più di 100 dipendenti rimane l'obbligo per gli operatori sanitari il voto è stato di 6 a 3 per quanto riguarda le grandi imprese e di 5 contro 4 per quanto riguarda l'obbligo sanitario la motivazione molto interessante è che in pratica questo obbligo non rappresenta di fatto un rischio professionale ecco perché deve cadere dato che il rischio non è diverso da pericoli quotidiani come criminalità, inquinamento atmosferico, malattie trasmissibili in pratica l'ho detto il coronavirus oramai è come queste cose qua quindi basta con gli obblighi il punto sono a mio avviso i danni che questo pseudo presidente Biden ha fatto agli americani costringendo moltissimi americani che non volevano vaccinarsi a farlo è quello che è accaduto in tutte le nazioni governate dal deep state dove tiranni non politici ma tiranni hanno costretto letteralmente persone a trattamenti sanitari obbligatori contro la loro volontà ad ogni modo Biden si è detto perfino deluso dai datori di lavoro e dalla Corte Suprema dai datori di lavoro che faranno rispettare la sentenza della Corte Suprema e già a novembre del 2021 però l'obbligo era stato bloccato da una Corte d'Appello che insomma aveva detto che non bisognava obbligare gli americani anche se però insomma tutto era rientrato a dicembre un giudice invece aveva sospeso l'obbligo di vaccinazione per i sanitari quindi comunque c'erano state della disagia adesso che la Corte Suprema ha detto no all'obbligo vaccinale tutti potranno in pratica intentare causa e il fatto che ci sia la Corte Suprema che ti dice che ti ha dato quell'orientamento nessun giudice in pratica si metterà contro quindi l'obbligo vaccinale di fatto è decaduto una volta e per sempre questo è un altro tassello molto importante che ci fa capire che se la magistratura si sveglia è perché la terza guerra mondiale è stata vinta da una fazione opposta dai patrioti e quindi insomma può anche svegliarsi ecco perché la magistratura quando è in dittatura l'abbiamo visto è addormentata quando è in dittatura è addormentata senti cambiamo caro Gabriele ma solo apparentemente argomento perché poi in realtà sono tutti direttamente o indirettamente collegati i vari tasselli quello di Jeffrey Epstein è un nome che ritorna adesso diciamo mediaticamente per via del processo alla sua socia ex socia ovviamente Gislein Maxwell ecco e direi che tra l'altro Epstein è il perenne convitato di pietra in molti ambienti decisivi no? Sì sì beh intanto Carlo Epstein inquadriamo il personaggio proprio inquadriamolo sì facciamo un excursus per rinfrestare la memoria lui era un arrampicatore sociale di fatto perché lui gestiva patrimoni poi a un certo punto si è messo a gestire patrimoni da solo con la sua azienda da patrimoni però oltre un miliardo di dollari e a un certo punto si è dedicato all'estorsione di quei patrimoni attraverso ricatti sessuali quindi lui proprio ha fatto questa escalation Epstein in pratica ha capito grazie alla Maxwell che era collegata al Mossad i segreti dell'elite e del deep state ovvero insomma pedofilia, satanismo eccetera eccetera infatti Little St. James, l'isola che avevano creato c'erano appunto rituali esoterici c'erano insomma orge c'era pedofilia eccetera e tra l'altro con questo business Epstein unisce anche le sue due passioni che sono proprio ragazzine e soldi e lui era stato già arrestato nel 2008 però in pratica usciva la mattina ed entrava la sera dal carcere nel 2019 scusate viene riarrestato nel luglio e ad agosto viene trovato morto poco prima del processo il punto è che molti dicono che Epstein non è neanche davvero morto ma è stato in qualche modo cooptato dai patrioti e dall'alleanza perché era in attesa di processo e nessuno ha visto il corpo infatti un certo Ricky Gervais non so come si pronuncia che è un attore comico sceneggiatore e regista molto famoso in America tra l'altro alla 77esima edizione dei Golden Globes del 2020 ha parlato a tutti i presenti dicendo proprio che Epstein secondo lui era vivo infatti erano tutti insomma tutti i VIP lì presenti ai Golden Globes erano tutti in qualche modo impauriti e quindi in pratica è un discorso tra l'altro memorabile che lo si trova anche sulla rete tradotto in italiano e questo ci fa capire come questo processo cioè come Epstein in qualche modo è come la Maxwell che sta cantando anche lei poi spiegheremo anche della Maxwell servono in pratica a ripulire i piani bassi del Deep State cioè quindi questi processi in realtà servono a quello perché poi ci sono gli altri processi invece per i membri più alti del Deep State della Kabbalah che stanno arrivando e che insomma che arriveranno a breve senti cosa intendi per ripulire i piani bassi? ripulire i clown del Deep State che hanno servito quindi le figure quelle mediaticamente più esposte in pratica no? sì e anche figure insomma legate all'elite ma comunque non di alto rango tipo il Principe Andrea per esempio no? tipo il Principe Andrea quindi figure in qualche modo siccome il Deep siccome va ripulito tutto deve esserci un ripulisti totale ecco che anche chi ha servito il Deep State le sue ideologie quindi in qualche modo ha mentito al popolo ecco che va punito quindi questi processi servono a questo e ci sono ci sono Epstein e Maxwell erano praticamente delle divinità insomma prima che venissero fatti scomparire dalla circolazione addirittura ci sono foto di loro sul trono della regina Elisabetta quindi questo per farci capire insomma a che punto e tra l'altro pochi sanno ma addirittura i due gestivano una sorta di micronazione che era una sorta di una specie di ONG che si dedicava ufficialmente a proteggere gli oceani del mondo e questa micro-NG che si chiamava Terra Mar c'era proprio un progetto il progetto Terra Mar e questa micro-NG aveva in pratica i propri passaporti avevano la propria immunità diplomatica e quindi queste persone addirittura godevano di un proprio passaporto e di una propria immunità diplomatica la Maxwell tra l'altro teneva discorsi all'ONU sui cambiamenti climatici quindi erano veramente capi di Stato in qualche modo venivano accolti come capi di Stato perché erano capi di questa micro-NG che si chiamava Terra Mar una cosa è certa è che praticamente se colpisci i vizi di questa elite e del deep state si fa crollare l'intero palcoscenico e quindi sta accadendo anche questo sta accadendo anche questo senti facciamo in conclusione per chiudere proprio il cerchio anche sul discorso di Jeffrey Epstein e anche la nostra puntata vogliamo fare un'analisi proprio della figura della socia ex socia ovviamente di Epstein alla Ghislaine Maxwell sì allora Ghislaine Maxwell è la figlia dell'editore britannico Robert Maxwell che era proprietario del Daily Mirror che tra l'altro è morto anche lui in condizioni misteriose nel 91 e la Maxwell dopo un mese di processo iniziato il 29 novembre del 2021 è stata condannata per quasi tutti i capi di accuso ovvero 5 su 6 quindi abbiamo la certezza che lei ha fatto determinate cose quindi l'ha fatta anche Epstein che era il suo socio quali sono i 5 capi di accusa sono cospirazione di minori in attività sessuali legali cospirazione per trasporto di minori in attività sessuali legali trasporto degli stessi cospirazione cospirazione per traffico sessuale di minori e traffico sessuale di minori rischia 65 anni di galera in pratica tutta la vita ci resterà lei è in pratica il collante tra i deep e il cuore del deep state torniamo ai Clinton agli Obama lei faceva un po' da collante Bill Clinton era un affezionato di quell'isola Bill Clinton c'è stato tantissime volte a Little St. James quindi questo ci fa capire come ancora una volta attraverso questi processi si voglia arrivare al cuore del deep state quindi ecco perché non mi preoccupo quando sento dire che Hillary Clinton nel 2024 vuole ripresentarsi Carlo perché con quello che sta accadendo è letteralmente impossibile quindi veramente lo trovo impossibile ad ogni modo le vittime hanno già depositato tutti i nomi presenti nelle isole ecco perché questo procede è per l'isola ecco perché questo processo in qualche modo è per il popolo perché dietro le quinte già si sa tutto già si sa chi verrà a breve interrogato chi verrà arrestato già è tutto chiaro perché tutti i nomi sono stati già fatti e quali saranno adesso le conseguenze io sono d'accordo con Mazzoni quando dice che il 2022 sarà un anno esplosivo quest'anno ci saranno delle cose esplosive perché tutto in qualche modo converge verso il 2022 quindi insomma basti pensare che sono già cadute nel 2021 cose esplosive però non hanno fatto i fuochi d'artificio quest'anno dovrebbero esserci i fuochi d'artificio nel 2021 per esempio si sono dimessi tantissimi amministratori delegati per esempio il primo novembre del 2021 l'amministratore delegato della Barclays che è la seconda banca più grande della Gran Bretagna l'amministratore delegato si chiama Jess Staley si è dimesso dopo un'indagine dei suoi legami con il finanziere Jeffrey Epstein ma si sono dimessi in tanti da Amazon a IBM a Uber Tinder naturalmente non sappiamo se si sono dimessi perché in qualche modo collegati al Deep State perché ancora deve essere provato si sa solo che si sono dimessi non sono diciamo ancora emerse le cause diciamo però sono veramente in tanti ad averlo fatto e quindi in qualche modo insomma questo ci dimostra anche un'altra cosa ovvero che negli Stati Uniti siccome la magistratura si sta svegliando adesso negli Stati Uniti chi sta dirigendo le operazioni sono militari in pratica si parla di patrioti sono militari che in qualche modo stanno 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 dirigendo il film Carlo perché quando Trump ha firmato l'Insurrection Act ha dato di fatto il potere ai militari ora noi sappiamo che in ogni nazione c'è una legge che fa sì che i militari non intervengano come polizia per esempio per arrestare per giudicare eccetera non intervengano fin quando non ci siano le condizioni per esempio negli Stati Uniti c'è il cosiddetto posse comitatus act che cos'è il posse comitatus act è praticamente un atto per cui i militari non possono intervenire come poliziotti quindi arrestare parliamo di marines insomma militari non possono intervenire come poliziotti e non possono creare tribunali ad hoc militari ora con l'Insurrection Act scusate è stato di fatto eliminato il posse comitatus act quindi i militari in questo momento possono diventare poliziotti tra virgolette e possono creare tribunali militari che sono già dietro le quinte tribunali militari anche se nessuno lo sa anche se non si dice quindi io veramente a questo punto la sensazione ma insomma è qualcosa anche di più che i militari siano siano i registi di tutte queste operazioni e di tutta questa esposizione dell'elite del deep state per mostrare al mondo il mostro ed è quello che si diceva sempre insomma devi mostrare al mondo il mostro in modo tale che ti credano perché altrimenti non ti crederanno certo senti Gabriele in conclusione possiamo dire che per quanto riguarda gli aspetti comuni che avete preso i temi comuni che avete preso in esame che hai preso in esame tu con quelli che ha fatto mercoledì Roberto Mazzoni sostanzialmente quindi le disamine coincidono questo è effettivamente molto interessante è un dato da mettere in evidenza effettivamente senti chiudiamo qui la nostra intervista di oggi credo che ci sia già del materiale di ricerca che stai preparando in vista della prossima settimana quindi mi confermi che avremo l'appuntamento anche la prossima settimana benissimo e quindi in particolare qui al Vaso di Pandora chi ti segue con molta attenzione sarà contento di vederti anche la prossima settimana ma non svegliamo anzi me l'avevi detto ma non lo svegliamo teniamo ancora segreto e teniamo questa suspense per i nostri ascoltatori grazie a Gabriele Sannino scrittore giornalista bloggere io ricordo il suo bellissimo canale su Rumble quello che i media non dicono vi invito ad iscrivervi grazie Gabriele grazie ai nostri ascoltatori e noi ci diamo appuntamento a settimana prossima ciao 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 Grazie a tutti